Ah, nice. Ok, bene. Quindi, allora, ricapitolando, sono intrippolato da un robot enorme perché il mio piccolo robot è stato praticamente stupido e ha riattivato il grande robot che ce l'ha con me, che io ho distrutto e... ok. Ok, insomma, avvio a freddo, capitolo 2. Scusate, non c'è messa. Ho veramente letto il posto che mi ha ucciso, per esempio, grazie per questo. Sarcasmo, testo di testo, completato. Oh, good. That's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers, and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Ah, I guess... Ottimo. Quindi. No. Lì deve restare così perché deve illuminarlo. L'acqua è mia nemica. È ancora mia nemica? No, no, ci posso andare, ottimo. Ah, capisco. E da qui, fammi salire. No, lì. Ok. Ho scoperto quanto buona sei a questo. Tu dovresti spiegare, però. Abbiamo molti testi da fare. Grazie. Però è comodo che ci siano gli ascensori e tutto. Questa è società futura, dove sono l'unico che vive ancora. Ok, bene. Ok, quindi questi qui mi ammazzano se li becco, quindi è meglio saltare. Quello non ce la fa, mi sa, eh. Io voglio provare a fare una cosa. No, niente. No, torna qui, Johnny. Nope. No. Non riesco a capire. Posso salire lì sopra? Con un portale? No. No. Quindi. Quindi, quindi, quindi. Che figo. Ok. Però ora dobbiamo pensare di... Devo. Non dobbiamo pensare a un modo. Per arrivare lì. Ok, vabbè. Questo è piuttosto ok. Cioè, va bene. Ok. Che figo. Però ora basta. Ok, allora qua. Ok. Ehi, sono stupido però, eh. Ok. Ok, così. Ecco qua. Ok, perfetto. Oh, ce l'ho fatta, ragazzi. Sono un po' stupido. Non ci ho messo un attimo a capire che potevo entrare là, eh. Bene, e non è finita, perché devo anche trovare questo qui ora. Guardate un attimo. Questo qui ora sapete cosa facciamo. Perfetto, ragazzi. Sei una persona orribile. Parlo sul serio qui. Parlo sul serio qui. E' quello che dice. Una persona orribile. Eh, perché? Non stiamo anche testando per questo tipo. Devo dire che anche se penso sia l'antagonista momentaneamente principale del gioco sia proprio questa, questo robò, questa robò enorme perché sembra una persona che è stata femminile. No, ma dai, che cattiveria. Che cattiveria, ragazzi. Ok. E laser fu. Ok. Ok. Ah, questo innanzitutto, così saliamo. Bene. Ora. No. Molto meglio. Quasi. Ok. E questo funzia. Ok, bene. E uno l'ho fatto. E l'altro invece è lì. Adesso però che non vedo altri cubi per... Ah, questo? Ah, questo? Questo attiva questo. Questo qui invece deve... Eh, questo qui era già un pochettino più complicato perché bisogna comunque pensare a tutte le possibilità diverse che ti danno questi portali che sono un elemento davvero strano per fare questi test, questi... Un momento. E' particolare, molto molto particolare. Appunto penso che alla fine li caricherò, non so ancora come li caricherò, sti cavolo di video. Un momento. Forse un capitolo alla volta. Forse un capitolo alla volta. Vediamo. Ah, ok. 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 Quindi ho tutto il tempo che voglio di fare quello che voglio. Wow. Ok. Possiamo piazzare lì un portale Che sicuramente dovrò reindirizzare quello da qualche parte Lì ad esempio Ok, quello continua a muoversi Ok, e se io chiudo il buco che c'è Si ferma Esatto Quindi A me dove serve? A me questo coso serve averlo dove 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 dove? Dove? Non vedo interruttore dispositivi Ok, allora Sinistro lo devo usare Metterlo lì Inizio a capire E ora lo posso mettere lì No, qua non ci posso andare Bisogna del cubo Del cubo Del cubo Che è dove? Ma allora, dai Prego Posso usarli per trovare Ottimo C'è spazzatura che vuole insieme agli ascensori qua Non l'ho capito Però va bene Va bene Non mi interessa Secondo me sto bene io Stanno bene tutti, no? Anche perché sono l'unico Quindi sono tutti A parte se quei robot si potessero definire Esseri umani Esseri viventi C'è spazzatura che non si potessero ...e rispondendo problemi quando si sono catapultati in space. Resultati sono molto informativi, ma non poter. Buon lucko! Ok, ottimo Non è così, penso che non sia così che si deve risolvere questo puzzle Vediamo un po' Solo che l'unica cosa che mi è venuta in mente è quella, davvero Ok, allora fatemi pensare un attimo Questo mi lancia dall'altra parte Lì posso, sì Lì posso Lì sopra non posso Sì, io riattivo questo, che succede? No Ah beh, allora, ma è facile Cosa cavolo Perché non puoi uscire la prima volta? Non puoi troppo tardi Non puoi uscire il cubo Vabbè Ah ma grazie Oh, anche questo test è fatto Ragazzi, ci sta, mi piace Portal 2 Io inizio Vediamo che il prossimo testo è Oh Advanti aereo Faceplate Beh Hai divertito Soaring through the air Without a care in the world Ho dovuto Lodare la wing That was made entirely of glass And pick up 15 acres Of broken glass By my cell Ok ti ti apposto Ok lì vengo lanciato lì Di chi vengo lanciato lì E da lì vengo lanciato dove Ok Proviamo dai 2 3 4 Queste si chiedono reazioni veloci Mi è piaciuta questa eh ragazzi La proaggine La proaggine Ok da qua Faccio un piccolo punto di salvataggio Così posso tornare sempre su Oh sorry Sto still cleaning out the test chambers So sometimes they're still trash Standing around Smelling being useless Try to avoid the garbage hurtling towards you Quindi aspetta dai Quindi quello salta qui Ottimo Paff Quello cade giù Ma questo non è assolutamente Un problema Perché lo andiamo immediatamente a prendere E lo riportiamo su Dopodiché Aspetta Ma che cavolo Mi sta a significare questo È lì L'induzante Poteva andarmi peggio dai C'è un pannello sotto O quando stavo parlando Siamo parlando di Smelly garbage Standing around Being useless That was a metaphor I was actually talking about you And I'm sorry Ah Ok Grazie 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 Sì Sì Simpaticissimo Ok Ok Perfetto Anche questa è fatta Questo qui era piuttosto Diciamo che bisognava pensare in fretta Con quel doppio portale Mi sembri come simpatica Mamma mia Ok Ok Oh Oh Did I accidentally fizzle that Before you could complete the test I'm sorry Go ahead and grab another one Oh No I fizzled that one too Oh well We have warehouses full of the things Absolutely worthless I'm happy to get rid of them Ma che simpatica Che simpatica Ragazzi C'è pure sul cuore Stavolta Ehi L'ho perso Ehi Dai Dai Ah No No Ah che roba figlia Non voglio che venga perso Completamente In modo che possa ancora avere quel portale blu Sotto il coso Non so se magari mi possa servire un cubo qua Adesso Nel caso mi servisse Così almeno ce li ho avuto due Ottimo Ok Ora Ah Ah Capisco Ora C'è bisogno Ok Allora innanzitutto questo mi serve qua Dopodiché Poi noi mettiamo un portale blu qui sotto E quell'arancione qua Ottimo Ottimo Sì Quell'arancione lì E quello blu qua Perfetto Anche questo è fatto Anche questo è fatto ragazzi Ogni test chamber È equipato Con un grillo di emancipazione A sua esito Così che i obiettivi Non possono smuggire Obiettivi Out of the test area Questo è rompito Non prendi Niente Con te Non voglio portarmi Dietro niente Ragazzi Ci facciamo una passeggiata Adoro queste cose Ok Allora Andiamo avanti Non perdiamo troppo tempo In chiacchiera In chiacchiera In azioni inutili Ok Ottimo Dai Aperture Laboratories Bello 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 Ok Andiamo avanti Di qua This next test Involves Emancipation grilles Remember I told you About them In the last test area That did not have one Oh no The turbines Again I have to go Wait This next test Does require Some explanation Let me give you The fast version There If you have any questions Just remember What I said In slow motion Test on your own Recognissance I'll be right back È una stronza Allora Se non sbaglio Ok Con questo attivo Capisco Quando passo Da qui Ok Il portale Si disattivano Ogni singola volta Che tocco quello Quindi io faccio così Così Quello si attiva Raccolgo Raccolgo Questo è un cazzo Devo portarlo Con un portale Zitti Ragazzi Cioè Io sono Il cinius Accinius Accinius Basta E posso anche passare Da qua Perché tanto Basta che non tocco Quello Ok Perfetto Risolto No Non ti Questo qui c'era prima da capire come funzionava il muro Eccetera Però Cioè Niente di Capitolo 3 Il ritorno Beh io adesso da quant'è che sto registrando Sto registrando da un'ora Mi sa che lo dividerò in segmenti da 30 minuti E farò ogni capitolo Un Un gameplay unico Quindi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Che riprenderà esattamente da qua Ciao Ciao